Ministro, è una cortesia perché poi mi conosco per cuoce ma mi conosco... Luigi Trusio il mattino? Beh, certo. Insomma, anche se oggi ci sono le ultime ore del mercato, però il venimento guarda la partita di Avellino con problemi d'abbondanza, nel senso che c'è un po' l'imbarazzo a scelta al centro campo. Per quanto riguarda la difesa, ci sono invece problemi di penuria, che è completamente l'opposto. Purtroppo, in queste ultime 24 ore, questo attacco influenzale ci ha un pochino colpito e abbiamo diversi giocatori con dei problemi, Danna, Mancinelli, Mengoni, Raicic, non sono un po' in una settimana a 48 ore e comunque a tre giorni dalla gara a perdere i giocatori e saltare due alle 20, però contiamo di recuperarli perché è importante avere la disponibilità e poi sicuramente vedere che tipo di partita sarà, nel senso che qualcuno può giocare dall'inizio, qualcuno può entrare, vediamo un pochino anche la tenuta. Vediamo un pochino come riusciamo a sbattire questi posti, perché è un'influenza non bella, soprattutto quella che ha colpito anche Mengoni, ha vomito, si perdono tanti liquidi. Vediamo, vediamo, abbiamo ancora, come ho detto, questi due giorni, due anni e mezza per decidere. La difesa ti sembra soprattutto un punto interrogativo, perché anche Signorini non si dia benissimo. Sì, Signorini è un problema di natura diversa, però insomma, lo recuperiamo, Signorini non recuperiamo senza altro. Speriamo anche Mengoni e Danna, perché Danna oggi non si è allenato e aveva qualche lignetta di febbre e ho preferito non farla allenare e mandarlo direttamente a casa, quindi sì. Nel finale si è inserito subito bene? Sì, sì, ma lui ha avuto questa lunga sosta di 20 giorni, il mese di sosta di serie B di quando ti alleni senza giocare, comunque anche inconsciamente abbassi un po' l'intensità. Lui stasettimana è abbastanza stanco, come del resto lo erano tutti oggi, ma io lo so, preferisco sempre comunque avere le cariche di lavoro in martedì e mercoledì un pochino più intensi, un pochino più alti, giovedì avere anche le gambe imballate e poi ci avviciniamo alla gara, sicuramente non dobbiamo dare il meglio durante la settimana, a me la settimana spesso si dice che la gara è lo specchio dell'allenamento, però ci sono delle settimane particolari dove dobbiamo cercare anche di scentellinare le forze e farci trovare pronti per una gara qua sentita, ma noi dobbiamo interpretarla con la maniera giusta, non come la gara della vita, come la gara, è una gara importante come lo sanno tutti e del resto perché noi siamo indietro quindi siamo a tanti punti dall'allenamento, quindi dobbiamo cercare di, se vogliamo dare anche valore alla vittoria al Catanzaro dobbiamo cercare di proseguire la striscia positiva. Se c'è di Montiel l'investimento in prospettiva? No, Montiel è un giocatore che comincia a star meglio fisicamente rispetto a quando sono arrivato perché veniva da una settimana, è un ragazzo intelligente che sa giocare a calcio a seconda delle partite lo possiamo anche adattare in certe zone, sono opzioni, però ripeto in questo momento qui abbiamo un buon centrocampo noi, un rientro a pieno regime di Spidale, lo stesso Cristiani, Carotti, insomma ci sono le alternative per poter avere anche più soluzioni in tanti che ce la chiede. Spidale ha detto però che lui può fare soprattutto la mezzala, sinistra ma anche destra, però in zona è regista davanti alla difesa, non lo faccio da tempo. No, ma lui è chiaro che noi abbiamo queste caratteristiche, gli ultimi campionati li ha fatti sempre lì, però è un giocatore che ad occorrenza può giocare anche in un centrocampo a due, perché lui nel settore maniere dell'Atalanta giocava, il periodo lì l'Atalanta era sempre un 4-4-2, io me lo ricordo quando l'ho visto con la primavera giocava lì, poi gli ultimi campionati ha giocato in quel ruolo lì, noi in questo momento qui abbiamo trovato, abbiamo cercato di impostare la squadra in un certo modo, l'abbiamo preso per cercare di avere quelle soluzioni, per avere anche una spinta a più, qualche gol in più da centrocampisti. Però non fissiamoci molto, io credo che i concetti da migliorare sono quelli di avere una squadra sempre corta, che si muove sempre in sintonia tutti e dieci a seconda di dover la palla e soprattutto poi cercarsi lo spazio per poi mettere in mostra le qualità che comunque ci sono e che dobbiamo tirar fuori, questo è il sulto. Davanti ha trovato in allenamento un buon aiuto, quindi questo buon aiuto parotta, insomma. Sì, no, parotta, io ora poi spero che insomma si cominciano, io giovedì non è che parto con una formazione, mi piace vedere tutti i giocatori esprimersi in un certo contesto, quindi io ho buon aiuto, io è un ragazzo, è un patrimonio della società che ho visto poco, pochi allenamenti, però ci sono arrivate richieste importanti, molto importanti e credo che il Presidente, non so ancora se cambierà ora perché ci sono ancora tre ore, credo che il Presidente faccia anche un sacrificio a tenerlo qua, però mi vuol mettere a disposizione per mettermi poi in difficoltà, più armi possibili, come dire, e io su questo ragazzo siccome mi sono arrivato anche a me personalmente, telefonate da direttore sportivi che militano anche in categorie superiori e che di calcio ne capistano e quindi dico se me lo chiedo, se c'è un giocatore buono, prima di dire al Presidente diamolo via, un pochino ci penso, però è chiaro che è un giocatore che mi deve far vedere tante cose ma ha già fatto vedere che ha delle qualità importanti e a me piace anche poi lavorare con i giovani, quindi spero per lui che sia anche un motivo di crescita se rimane qua, quindi di avere poi magari anche in primavera, anche con i campi asciutti, con l'adattamento alla borda per una freccia importante, perché per noi è un giocatore importante, come lo sono tutti ma insomma, quando giocano nella metà campo avversario, c'è gente che può incidere poi durante la partita. Santo Otto, su piano tattico la strada intrapresa è quella di Catanzato, no? C'è un raglisto, un trequattista fa un centro di area, due attaccantati, è quello? Ma io come ho detto quando sono arrivato, perché non ho la pretesa di indovinare tutto subito perché sarebbe anche presuntuoso, a parte mia, avere già individuato, io conoscevo questa squadra perché tanti giocatori li ho allenati, comunque poi è una tazza che seguivo così, insomma, ho seguito questi ultimi anni, perché comunque qui di giocatori importanti ce ne sono stati e ce ne sono, quindi non è che negli ultimi anni la squadra è stata fatta solo quest'anno, quindi la squadra che ha avuto sempre dei giocatori importanti che probabilmente avrebbero fatto anche molto bene anche in categoria superiore. Io credo che così come siamo adesso dobbiamo cercare di, almeno io, di dargli un po' di sicurezza, quindi proseguire su quella strada lì che poi non è detto che sia una sorta definitiva che durante la partita tu non puoi giocare in maniera diversa, però in questo momento qui abbiamo bisogno di sicurezza e dobbiamo insistere, chiaramente poi io chiedo anche molto sacrificio davanti perché con me gli attaccanti devono lavorare, soprattutto in fasi non possesso, devono dare un grosso aiuto a me da campo perché siamo uno in priorità numerica spesso, quindi ci vuole sacrificio per giocare così, ma la disponibilità c'è, quindi per adesso proseguiamo così. In avanti c'è una bella scelta, lo diceva lei prima, da quello che ho potuto capire è che lì c'è soprattutto attaccanti dinamici che si muovono tantissimo, Cipriani non è uno di quelli, però è anche vero che Cipriani è un giocatore importante che nell'ultimo di partire ha fatto tanto ed è anche un po' un idolo della broseria. Io non ho, le sue domande sono anche, mi vuol far dire cose che io, a me in questo momento qua, quello che chiedo alla squadra per potersi reggere in un certo modo lo conoscivano i giocatori che comunque nella fase di non possesso abbiano anche certe caratteristiche. E' chiaro che ci saranno partite dove avrai bisogno di un terminale offensivo importante, dove avrai bisogno di un ariete, io queste sono frecce che non voglio perdere, nel senso che io, poi dopo la domenica, sono qui, sono pagato per fare delle scelte, cercare di fare meno errori possibili perché gli errori si commettono, però se uno ne fa meno possibile, quindi io quello che dico, in questo momento qua, abbiamo bisogno di giocatori con certe caratteristiche perché è la squadra che ha bisogno di certi giocatori per poter salreggere questo ruota, io poi non devo dimenticare Cerminale, non devo dimenticare Falzarano, lo stesso Marotta, lo stesso Marchi, per me sono tutti i titolari. Poi è chiaro che, a seconda di come va, cerchiamo anche di dare un po' di sicurezza, però Cipriani è un giocatore che conosco, ha avuto qualche problemino fisico, anche questa settimana, ieri non si è annelato, oggi ha fatto mezz'ora al secondo tempo, vediamo come risponde domani, vediamo, però intanto sono tutti a disposizione, è chiaro che bisogna fare anche poi qualche scelta e vedremo di volta in volta, ma io quando sono arrivato qua ho detto per me siete tutti importanti e nessuno è indispensabile perché se eravamo vent'ultimi, qualche problema c'era, quindi se tutti noi ci mettiamo un po' in discussione e diamo tutto per scontato, a cominciare dal sottoscritto, è un momento, scusate, forse da Milano, mister. No, è Tonino lo schiavo, me ne hanno proprio fatto tanto. No, mi hanno fatto una domanda perché io le volevo chiedere, ecco, comunque lei con la destra è già proiettato, come dire, da Avellino, però oggi sono anche le ultime ore di mercato, si aspetta qualcosa da Milano, si aspetta qualche telefonata? Io mi aspetto che adesso, da stasera alle 7, alle 7 finisca il mercato, noi il nostro mercato, se non c'è stravolgimenti credo che dobbiamo pensare a una partita perché non dove ci abbiamo, come ho detto, 12 partite importanti, se ne saremo bravi, umili, concreti, determinati, incavolati, per non usare quell'altra parola, per poterci riagganciare perché siamo indietro, per le squadre avanti ce ne sono, quindi bisogna dare, così, grattare il barile e avere forza. È chiaro che da stasera io poi, quando sono venuto qua, ho cercato di togliere alibi, la parola alibi a me non piace, perché l'alibi è un sintomo di debolezza, quando si, ma cominciare dall'alleatore, quindi siamo una squadra che anche così com'è può fare molto meglio di quello che sta facendo adesso. Poi, se uno non è contento, se uno, io difficilmente, primi anni, un pochino più, perché ho un carattere un po' così maore, difficilmente mi scontro con un calciatore, io non lo metto affatto con più, se ti tiri fuori, stai fuori, anche io ti metto in piazza, dipende da loro, io sono qui a osservare, a cercare di correggere un po' le situazioni, di improntare anche la squadra in un certo modo, perché quello lo devo fare, però poi dipende da cacciatore, quindi stasera io potevo andare, dovevo andare, preferivo andare perché non gioco, questi discorsi qui, quando già mi si pone così, con me già parte il retrovia, quindi glielo ho già detto, quindi non credo che verranno a bussare alla porta di mi potevo andare perché non gioco, sono stato chiaro Presidente Cosimo Garicchio, tutto bene, allora diciamo che questa settimana si è parlato più della querelle relativa allo Stato e forse questo ha abbandaggiato anche la pressione relativamente al discorso tecnico, almeno dal punto di vista giornalistico e dal punto di vista dei tifosi, lei ha parlato più volte nel corso di questo incontro di sicurezza, cioè di inculcare la sicurezza, a che punto siamo da questo punto di vista? Ma noi, il gruppo, come ho detto, gli allenamenti anche ieri, il martedì, noi abbiamo fatto una sessione di allenamenti, quindi le sicurezze che do io sono le loro sicurezze, cioè avere la sicurezza della giocata, è chiaro che in certe situazioni quando trovi squadre come l'Avellino che è la squadra che è pericolosa, devi vivere in casa, c'è giocatori esperti, è la squadra che credo abbia avuto 10-11 rigori, quindi è una squadra che mette sempre pressione le difese avversarie, quindi noi bisogna avere comunque sempre quella sicurezza, quando parlo di sicurezza, per avere il controllo per cercare di non metterci in difficoltà, quindi la giocata semplice, soprattutto da dietro, quindi cercare quelle situazioni che rendono poi le azioni meno complicate, perché a volte ci andiamo a complicare, io ho visto anche qualche filmato, portiamo troppo palla, io ormai se un pochino mi seguono gli allenamenti, fanno sempre questi due tocchi, noi abbiamo giocatori che portano troppo palla, quindi invece dobbiamo cercare di velocizzare l'azione e poi quando tu vedi che poi le cose ti rientrano, cresce anche l'autostima che fa parte poi del discorso sicurezza, essere forti e convinti sicuramente aiuta a dare qualcosa di più, noi in questo momento qui stiamo crescendo, sappiamo che siamo indietro, però ci faremo trovare pronti, sapendo di incontrare un avversario che fino a domenica scorsa era primo classifica, che l'andata ci ha messo sotto, in tante situazioni e niente, però anche noi dovremmo avere le nostre situazioni, chiaro, sulla carta stiamo un pochino così, partiamo un pochino da dietro, però la carta è fatta poi per essere rilasciata, quindi dobbiamo avere coraggio di giocarsi, tutto. Questo è il terreno della classifica, che è una cosa ci ha fatto tant'esempiata. Se non abbiamo un motivo, questo derby per la titoseria, è il derby che è la domanda. Per lei? A me piacerebbe proseguire, no ma ormai sono qualche anno gannino, troppe volte ex, mi preoccupo solo del Benevento, di portare più in alto possibile questa squadra perché sarebbe una soddisfazione per l'ambiente ma anche a livello personale, per la proprietà comunque, che comunque è una proprietà che in questi anni sta investendo e non è a volte semplice quando uno investe sentirsi magari anche offeso, pizzicato e quindi bisogna cercare tutti insieme quando parlavo di indirizzo. Io quando sono arrivato qua secondo me è stata fatta una cosa che io non c'entro niente perché ero arrivato solamente 24 ore prima, ma il fatto di avere anche riunito una tifoseria, di aver ricompattato un ambiente è un segnale di grande umiltà ma di grande intelligenza. Spesso le persone umili sono anche intelligenti e quindi è importante questo, è un segnale importante, anche la squadra indirettamente lo percepisce, avere gente all'allenamento. Noi adesso dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo, per non tradire noi stessi prima di tutto, ma per non tradire anche la fiducia degli altri. E' chiaro che non lo sono, se avessi la panchetta magica e c'è un risultato, però dobbiamo arrivare a maggio e giocarsi qualcosa di importante. quello sì. Mi stai rendendo conto che è ancora un po' presto per dirlo, però forse lei comunque un po' ha imparato a conoscere i suoi giocatori anche dal punto di vista emotivo caratteriale. Pensa che tutte queste aspettative che si stanno concentrando sul derby possano giocare positivamente o negativamente rispetto a quella che poi sarà anche l'approccio alla partita. No, no, non dobbiamo essere, a volte la troppa attenzione ti porta a fare prestazioni, no? Noi dobbiamo arrivare belli carichi, l'esterno è una cosa, dobbiamo percepire i segnali positivi dall'esterno, non l'ansia della prestazione, no? Noi abbiamo fatto una settimana tranquilla, abbiamo lavorato, domani ci riuniamo tutti, tutta la squadra, ci alleniamo, non dobbiamo pensare noi, è la prima, la seconda di 12 finali, quindi è una partita importante da fare nella maniera giusta e noi serve trovare continuità, noi serve una continuità in questo momento. Quindi non, come ho detto prima, diventerebbe un alibi, no? Un alibi, togliamoci di tutti. Bene, grazie, scusate il raffreddore ma io...